Musica Cari amici, cari amiche di Angoli, come sempre una buonissima serata a tutti voi e ben ritrovati qui con me ad Angoli. Sarà una serata davvero di grandi, grandi, grandi ospiti. A partire dal primo che è in collegamento con me via Skype, io sono davvero onorata e felicissima di avere Totò Cascio in collegamento. Ciao Totò, grazie di cuore per aver accettato il mio invito. Grazie, grazie a te, ciao a tutti. Allora, io lo ricordo, tu sei il bambino protagonista di un film amatissimo, Nuovo Cinema Paradiso, un film premio Oscar di Giuseppe Tornatore che appunto è impresso nella memoria di tutti noi. Tu sei quel bambino e quindi io voglio partire proprio da qui, da questa tua esperienza che risale naturalmente a molto molto tempo fa, ma che credo sia anche per te impressa nel cuore. Che cosa ci dici in merito Totò? Sì, effettivamente hai ragione. Nuovo Cinema Paradiso e io dico il mio biglietto da visita. È un film cult che ci ha dato tante, tante soddisfazioni. Come hai detto, tu hai vinto il premio Oscar, è famoso in tutto il mondo ed è qualcosa di bello sia per tutti noi che penso anche a livello nazionale. Naturalmente sì. Poi, strada facendo, di lì a poco, la tua carriera, la tua vita, naturalmente sempre da bambino e anche da attore, si è scontrata con un momento, una realtà difficile. è così Totò? Che cosa è successo? Sì, effettivamente sì, è così. Ho fatto altri film, dopo il terzo, il quarto, non mi ricordo, sempre da bambino, ho avuto un problema agli occhi che si chiama retinite pigmentosa, una grave malattia agli occhi che mi ha bloccato. Mi ha bloccato sia a livello visivo che anche mentale. Non ne parlavo, mi sono chiuso in me stesso. Non è stato facile, naturalmente, accettare e accogliere questa nuova realtà. Poi dopo tanti sacrifici, con tante lacrime, non mi vergogno dirlo, tante preghiere al Buon Dio, sono ripartito, ho ripreso in mano la mia vita. Infatti tutto questo l'ho scritto in un libro che a breve uscirà. Quindi c'è questa tua autobiografia che a breve avremo a disposizione, dove tu davvero con molta sincerità, così come stai rispondendo alle mie domande, ti racconti facendo anche capire che situazioni di questo genere inizialmente è umano, è normale, destabilizzano molto, ma poi si può attraverso un cammino sicuramente anche faticoso e di grande messa in discussione trovare comunque una via, un modo per riprendersi, per riprendere la via. È andata così, vero Totò? Sì, sì, bene, hai fatto proprio il riassunto giusto, è andata proprio così e va così. Infatti il mio messaggio, la mia, ciò che voglio dire alle persone che nella vita è facile accettare la gloria, il successo, i bei momenti, però ci sono pure le difficoltà, le malattie, la disabilità, tutto ciò che ci comporta una prova. Ed è lì che non dobbiamo mollare, mi rivolgo a tutte le persone che come me attraversano dei momenti difficili. Chiedere aiuto non è una vergogna, tutt'altro. E dai, io ho ripreso in mano la mia vita, infatti ho chiamato il libro La gloria e la prova che uscirà il 17 febbraio. E quando tu Dolores accetti, accogli, anche la prova ha i suoi lati di amore e di luce. Tutto ciò che non possiamo cambiare dobbiamo accettarlo. Accertarlo naturalmente non significa rassegnarsi, perché io credo nella scienza e nella ricerca e dobbiamo andare avanti con tanta forza e tanto coraggio. E tu, Totò, fai una considerazione molto vera e molto bella, che poi magari da mettere in pratica è più difficile. Hai già fatto un accenno a questo, cioè accettare la gloria, i momenti belli, magari è più facile. Siamo tutti bravi. Però poi l'uomo vero, la persona vera, esce davanti alle prove quelle più complicate come questa, è vero? Bravissima. Io avevo bisogno di condividere, perché sono stato contagiato in maniera... È un termine che va molto in uso di questi tempi, quindi ci sta. Però questo è un contagio importante. In che senso? Tutte le persone che io ammiravo, che avevano delle difficoltà, il nostro mito Alex Zanardi, Andrea Bocelli, Annalisa Minetti, Bebidio, l'allenatore del Bologna Sinisa Miajlovic, eccetera, tutti coloro che hanno affrontato le loro prove con tenacia, con coraggio, con tanta dignità, a me hanno trasmesso tanto. Ecco perché spero io di poter dare il mio contributo, il mio aiuto a tutti coloro che stanno passando un momento difficile. Hai detto bene poco fa, dirlo è più facile. Nella pratica ci vogliono tanti sacrifici, tanta consapevolezza e tanta forza. Senti Totò, tu questo percorso lo hai fatto proprio perché credi moltissimo nella ricerca e quindi nei risultati che la ricerca può portare a favore delle persone che hanno bisogno. Hai partecipato ad un percorso che hai condiviso, se non sbaglio, addirittura anche con Teleton, è vero, con un progetto importante condiviso. Bravissima, sì, bravissima. Teleton mi ha fatto, quando io ho parlato del mio problema agli occhi, Teleton mi ha fatto la proposta di questo cortometraggio che si chiama Occhi Aperti, girato per Rai Cinema insieme a Fondazione Teleton, dove a dicembre è andato in onda per la ricerca della Rai. È stato un successo, ma la cosa principale è l'affetto, il sostegno, la carica delle persone. Tutto ciò è stato, guarda, bellissimo. Credo nella ricerca e credo nella condivisione. E so che, appunto, come hai detto, la presenza di anche altri grandi nomi, li hai citati, Zanardi, Bebevio e via dicendo, sono comunque delle figure alle quali tu ti sei riferito, sicuramente come fonte, come esempio di forza, ma credi che siano delle figure davvero importanti, cioè condividere questo messaggio di ricrescita, di rinascita, attraverso voi che siete delle figure, dei personaggi noti, è importante perché arriva questo messaggio a chi a casa magari si sente in un momento di sconforto e ha bisogno di trovare la strada, la forza. Che ne pensi? Hai detto bene, è proprio così. Bisogna condividere, bisogna naturalmente, non c'è una bacchetta magica si cambia dall'oggi al domani. Naturalmente bisogna fare i conti con la realtà, non possiamo ahimè cambiarla, però possiamo essere noi, anzi dobbiamo essere noi, i capitani della nostra vita, della nostra anima e qualsiasi cosa dobbiamo avere un atteggiamento giusto, di coraggio. Io dico Dolores che toccare il fondo non è la fine, è la fine se tu ci rimani. Quindi anzi può essere davvero la spinta per risalire. Per risalire, per ripartire più forte di prima. Certo, senti, se non ho letto male durante la tua esperienza di condivisione con Teleton della quale ci hai parlato poco fa, anche appunto Tornatore ti ha fatto una telefonata, è vero? Sì, con Tornatore ho parlato dei miei problemi, del mio problema agli occhi e il regista ha avuto Mauro Mancini, ha avuto l'idea di parlare anche con Peppuccio, se dava il suo contributo ed è stato bellissimo, è stato bellissimo. Figurati che Peppuccio mi ha fatto il regalo della prefazione del mio libro ed è qualcosa di bello, è una persona per me molto preziosa a cui sono molto legato e naturalmente dovevo condividere con lui. Naturalmente sì, Totò, siamo alle battute conclusive. Io credo fortemente, perché lo vedo nella tua determinazione, lo sento nelle tue parole, che tu abbia davvero il futuro davanti a te e tanta voglia di fare, di essere quell'esempio che tu dici sono stati gli altri per me ed è il momento che io lo sia. Ripensare a quel film meraviglioso che abbiamo citato, Nuovo Cinema Paradiso, ora per l'uomo forte e determinato che sei, che sensazione ti dà? Un minuto e poi ci salutiamo. Vai, Totò. Ho fatto pace con il Totò Bambino, perché avevo paura di non piacere al Totò Bambino. Ti dico una cosa proprio personale che ho scritto pure nel mio libro ed è qualcosa di bello. E poi ci salutiamo, come diceva Alfredo in Nuovo Cinema Paradiso, l'ho fatto mio e lo auguro a tutti coloro che ci ascoltano in questo momento, qualsiasi cosa la dobbiamo amare come Totò amava la gabbina del Paradiso quando era bambino. Tutto bisogna farlo con amore e anche la prova, la disabilità, la malattia, la salita può essere accettata con Gloria. Grazie Totò. Ricordiamo l'uscita della tua autobiografia, ma hai detto a febbraio? Sì, il 17 febbraio si chiama La Gloria e la prova. Spero di riparlare con te e con tutti voi. Vi ringrazio di cuore. Mettilo già in agenda, sarà una certezza, ci risentiamo per capire che cosa sta succedendo. Totò, io ti ringrazio e ti abbraccio fortissimo. Alla prossima. Ciao, grazie. Ciao a tutti e grazie. Grazie, grazie a te. Grazie a voi. Continuiamo tra poco. Grazie a tutti.